Buongiornissimo mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale Oddio, tutto ok? Tutto a passo? State bene? Stavo per dire che oggi è il giorno in cui inizio ufficialmente tutti i preparativi per il trasloco imminente Mi sento un po' grande a dire e fare una cosa del genere Cioè, un trasloco, non vivrò più con i miei genitori Cioè, di cosa stiamo parlando? Per chi non lo sapesse e per chi se lo stesse chiedendo No, non vado a vivere da sola, vado a vivere con il mio ragazzo Andiamo a convivere Stiamo insieme da quattro anni e mezzo e finalmente abbiamo deciso di fare questo grande passo Ah, ci credo Quindi sì, sarà tipo un periodo super stressante dove dobbiamo comprare un sacco di cose Fare un sacco di scatoloni, fare un botto di decluttering perché non credo proprio che porterò tutti i miei vestiti con me Serve proprio un bel butto, tengo, regalo, qualsiasi cosa di tutti i vestiti che ho perché hanno veramente troppi E più della metà non vengono più usati ma non si ha mai voglia di fare veramente questo genere di cose Quindi rimangono dentro all'armadio e semplicemente stanno lì Ecco, oggi è il giorno in cui queste decisioni verranno prese Oggi deciderò finalmente con un po' di fatica cosa portare con me nella nuova casa e cosa lasciare indietro al passato E siccome io sono una persona molto 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 pigra Sono super felice di fare questi video insieme a voi Perché così ho una scusa nel senso Oh no, Cata, devi fare un video Sì, devo fare un video Sì, ma devi anche fare il trasloco Sì, devo fare anche quello Beh, uniamo le due cose Farlo con voi sarà molto più semplice Perché avrò molta più voglia di farlo Perché è una scusa Voi siete la mia scusa della vita per non essere una persona pigra Quindi grazie di esistere Sì, ma vi rendete conto? Vado a vivere da sola Abbandono i miei genitori Avrò la mia indipendenza Wow È assurdo Non ci posso ancora credere Che poi io per scaramanzia queste cose ancora ai miei amici non le ho dette Lo sappiamo io e Andrea E i nostri genitori Spero che i miei amici non guardino questo video Perché sennò potrebbero arrabbiarsi che io non glielo ho detto Ma l'hanno scoperto da un video su YouTube Amici non guardate questo video Ciancio alle bande, bando alle ciancio Andiamo a prendere gli scatoloni? Iniziamo a fare questo trasloco? Iniziamo a mettere le cose dentro gli scatoloni? Vado a prenderli! Prima di iniziare a fare gli scatoloni Però dobbiamo parlare di una cosa molto 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 importante Mi sono arrivate le nuove vitamine Faccio un casino Vi ho già fatto vedere le vitamine di Bare With Benefits Ma siccome le ho amate troppo Sono tornata qua per parlarvene Questa volta ho preso queste qua che sono multivitamine per tutti i giorni E hanno la vitamina C, D, E, B3, B6, B7, B9 e B12 L'odore è stupendo! E assaggiamola perché queste qua non le ho ancora provate Sono buonissime ragazzi Multivitamine per tutti i giorni Due volte al giorno le amo Io ve lo dico, è come non prendere vitamine Nemmeno te ne accorgi Le prendi super super volentieri Guardatele Cioè, sono o non sono le vitamine più belle e buone Che abbiate mai visto in tutta la vostra vita? Abbiamo queste qua per la pelle Che sono Senza zucchero Vegane Senza lattosio Gluten free Cioè, le possiamo prendere tutti Queste hanno la biotina e lo zinco E voi vi starete chiedendo Sì, quindi Calma, calma Ve lo dico io a cosa servono Contribuiscono al mantenimento di una pelle normale E l'acido ialuronico per una pelle rimpolpata e luminosa Ultime ma non meno importante Quelle per i nostri bellissimi capelli Che le sto prendendo già da un po' di mesi E vi giuro Vi giuro La differenza si nota Io ve le straconsiglio raga Vi giuro che ne vale la pena Quindi Se volete anche voi prenderle Ho un codice sconto per voi Del 20% Il codice sconto è CatarinaYT20 Rimarrà attivo sempre Ed è cumulabile con gli altri sconti Che ci sono sul sito di Bear with Benefits Vi lascio il codice sconto E il link diretto al sito di Bear with Benefits Qua sotto in descrizione E noi continuiamo con il video Ed ecco qui il primo scatolone che andremo a fare Eh sì Questo scatolone lo sto riciclando Perché oggi mi è arrivato il nuovo ferro da stiro Che ho comprato per la mia nuova casa E siccome è arrivata in questa scatola immensa Useremo questa scatola per mettere dentro le prime cosettine Oh mio dio Devo fare una premessa Non spaventatevi delle condizioni Di come tengo i miei vestiti dentro all'armadio Perché lo so Che potrei essere ordinata Ma Non lo sono Allora Qui c'è una parte del mio armadio Che ha soltanto le magliette estive E siccome è inverno Queste qua penso siano Le prime Che andremo a declatterare E infilare dentro gli scatoloni Iniziamo Freda vi giuro Una tortura Io non sono brava in queste cose Ho bisogno di qualcuno che lo faccia per me Direi di fare un bel timelapse Perché sennò vi annoiate un pochino a guardare Solo me che dico Sì no no sì sì no sì no no sì Questa maglietta mi piace da matti Soltanto che è un po' vecchia E quindi i ferretti qua Si sono un po' rotti Non so cosa fare Non vorrei buttarla A cosa stavo pensando Quanto ho comprato questa roba qua Andiamo a pesca Prendiamo un po' di pesci Anche voi non buttate le cose Che non vi vanno più perché Ma che ne so Magari tra un mese Sarò molto più magra E mi starà di nuovo Ecco questo è il ragionamento sbagliato Perché io sto tenendo la metà delle cose Soltanto perché Sì ma se dimagrisco Mi stanno di nuovo Quindi questo sì Questo toppino qua È una XS Non mi sta per niente al mondo Ma Oh io l'abbonamento in palestra L'ho fatto per rientrare qua dentro Mica lo butto Allora siamo a buon punto Quest'anta è più o meno fatta Manca soltanto lì E mi sono accorta che Questa cosa del prendere i vestiti dall'armadio E metterli nelle scatole Funziona per una semplice cosa I vestiti di Andrea Io ho veramente tantissime cose di Andrea Che ogni volta mi dici Dov'è? Faccio non lo so Beh Sono nel mio armadio Da un bel po' E non sapevo di avercele Ma Non devo più riportargliele a casa Perché? Perché andiamo a vivere insieme Quindi io semplicemente Le metto insieme alle mie Nelle scatole E quando Sarà l'ora di fare Il vero effettivo trasloco Ce le avrò E gliele metterò nell'armadio Insieme alle mie Cioè Fantastico Non ci sarà più la cosa del Dove hai messo la mia felpa? È dentro l'armadio amore Non c'è bisogno di stirare le cose Vero? Tanto Devono andare nella nuova casa Le stireremo a tempo debito Adesso no? Giusto? Raga Questa maglia ce l'ho fatta io A uncinetto a mano da sola E non so quando la userò Ne se mai la userò Però l'ho fatta io Non posso declatterarla Cioè Fatta anche male Però l'ho fatta io Non posso buttarla La tengo Va bene? Guardate L'ho fatta con le mie mani La situazione è Questa qui Ho praticamente riempito tutta la scatola Ma c'è ancora dello spazio E penso che lo userò Per mettere tutti gli appendi panni Come si chiamano? Qua le chiamiamo grucce Ma scusate È una domanda seria Queste cose qua Noi le chiamiamo grucce Voi come le chiamate? Appendi panni? Non lo so Io le chiamo grucce Questa è una gruccia Voi tu come la chiami? Quello che vorrei per il nuovo armadio È riuscire ad avere le grucce O come le chiamate voi Tutte uguali Perché mi dà fastidio Che ce n'è una rosa E una blu O una in legno No Le voglio tutte uguali Ma siccome è soltanto l'inizio Per ora le tengo tutte E poi pian piano Inizio a comprare quelle Di riserva Per buttare quelle rosa E mettere quelle tutte uguali Sì Questo è il piano di azione Lo so che sono pazza Ma ci tengo Siccome sono molto disordinata In questo armadio Vorrei che nel mio prossimo Fossi più ordinata E per esserlo Ho bisogno delle grucce Tutte uguali Ma per ora Le teniamo Magari quelle rotte Le possiamo buttare Ok non so se è stata Una buona idea Quella di metterle Tutte sopra i vestiti Perché Perché ora La situazione è questa Oh cavolo Secondo me si rompono tutte Se chiudo la Ah Devo anche andare A comprare lo scotch Perché non ce l'ho E quindi non posso Chiuderla effettivamente La scatola Non ero pronta A farlo Questa è la verità Ma Ho iniziato E questo è già Un bel Passo avanti E niente ragazzi Questo era il video Ufficialmente Volevo soltanto Annunciarvi Che vado a vivere Con il mio ragazzo E visto che c'ero Mi sembrava carino Fare la prima Scatola del trasloco Insieme a voi Ora devo essere sincera Sto sudando Tantissimo Mi serve Comprare più scatole Mi serve Comprare lo scotch Per chiudere le scatole E mi serve Capire qual è Il miglior metodo Per fare questo Trasloco Perché non posso andare A caso Come vava Secondo me c'è il metodo Giusto anche per fare I traslochi Quindi devo un po' Studiarmi questa cosa qua Ma ci tenevo a fare Con voi Il primo scatolone E ovviamente A dirvi questa novità Sono felicissima Ci sarà una nuova location Nei video Perché ovviamente Non vivrò più qua Questa non sarà più La mia cameretta Avrò un altro Un altro spazio Un altro Vabbè ma poi Poi vedrete tutto Perché ovviamente Ci sarà anche L'House Home Tour Come si chiama Vabbè Non importa E io spero Che il video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un mi piace Se non è così Lasciatelo lo stesso Perché tanto Non vi costa niente E rende felice me Mi raccomando Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se volete appunto Venire con me Durante tutta la fase Del trasloco Dobbiamo andare A comprare Il divano A comprare La cameretta Da letto Nuova Dobbiamo andare A comprare Un sacco Di cose E ovviamente Dobbiamo entrare Nell'appartamento Quindi se volete Vivere con me Questa nuova esperienza Questo nuovo capitolo Della mia vita Fatemelo sapere Qua sotto Nei commenti Che io sarò Felicissima Di vivere questa cosa Insieme a voi E niente Io vi mando Tanti 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 bacioni E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao amori Mi stavo dimenticando Se sei arrivato Fino alla fine Di questo video Commenta Con Gruccia